La notizia dell'assassinio di Lorricchis si diffuse rapidamente nel territorio di Grasse, come se fosse stata una voce del tipo il re è morto o c'è la guerra, oppure i pirati sono sbarcati sulla costa e scatenò paure analoghe anche peggiori. D'un tratto la paura che si erano sforzati di dimenticare era ancora là, virulenta, come nell'autunno precedente, con tutti i fenomeni a essa collegati, panico, ribellione, ira, sospetti isterici, disperazione. Di notte gli uomini restavano in casa, rinchiudevano le loro figlie, si barricavano, difidavano l'uno dell'altro e non dormivano più. Ognuno pensava che adesso sarebbe stato come prima, ogni settimana un assassino, sembrava che il tempo fosse tornato indietro di sei mesi. La paura era ancora più paralizzante che non nei sei mesi prima, perché il ritorno del pericolo, che si credeva superato da tempo, diffuse un senso di impotenza tra gli uomini. Se aveva fallito perfino la maledizione del vescovo? Se Antoine richesse il grande richesse, il più ricco dei cittadini, il secondo console, un uomo potente, avveduto con tutti i mezzi possibili a sua disposizione, non era riuscito a proteggere la propria figlia? Se la mano dell'assassino non era indietreggiata neppure davanti alla sacra bellezza di Lor, poiché in effetti Lor appariva come una santa e tutti coloro che l'avevano conosciuta, soprattutto adesso a posteriori dopo la sua morte, che speranza c'è ormai di sfuggire all'assassino? Era più crudele della peste, perché alla peste ci si poteva sottrarre, ma a quest'assassino no, come dimostrava l'esempio di Richis. Evidentemente possedeva doti soprannaturali, si era cercato alleato, certamente alleato con il diavolo, posto che il diavolo non fosse lui stesso. E così molti, soprattutto gli animi più semplici, non seppero far altro che andare in chiesa a pregare. Ogni categoria professionale pregò il proprio patrono. I fabbri Sant'Aloisio, i tessitori San Crispino, gli ortolani Sant'Antonio, i profumieri San Giuseppe e condussero con sé le loro moglie e figlie. Pregarono insieme, mangiarono e dormirono in chiesa, non la lasciarono più neppure di giorno, convinti di trovare in seno alla comunità disperati al cospetto della Madonna, l'unica sicurezza possibile di fronte al mostro, seppure una sicurezza c'era ancora. Altri, più smaliziati, dal momento che la chiesa aveva già fallito una volta, si riunirono in associazioni occultistiche, ingaggiarono per una grossa somma di denaro una strega abilitata di goudon, si rifugiarono in una delle tante grotte di calcare del sottosuolo di Gras e allestirono messe nere al fine di propiziarsi il maligno. Altri ancora, principalmente membri dell'alta borghesia e della nobiltà colta, puntarono su metodi scientifici più moderni, magnetizzarono le loro case, ipnotizzarono le loro figlie nei salotti, tennero sedute fluidali in cerchio e in silenzio con emissioni di pensiero condotte in comune, tentarono di bandire telepaticamente lo spirito dell'assassino. Le corporazioni organizzarono una processione di penitenza da Gras all'Anna Pool e ritorno. I monaci dei cinque conventi della città istituirono una messa supplicatoria permanente con canti continui, di modo che ora, in uno, ora e in un altro punto della città, si sentiva risuonare un lamento incessante giorno e notte. Quasi più nessuno lavorava. Così il popolo di Gras aspettava in ozio febbrile, quasi con impazienza, il prossimo attentato omicida. Che fosse imminente nessuno le dubitava e in segreto ognuno desiderava che arrivasse la spaventosa notizia, con l'unica speranza che non riguardasse lui, bensì un altro. Comunque le autorità della città, della zona, della provincia, questa volta non si lasciarono contagiare dall'isteria della popolazione. Per la prima volta da quando era comparso l'assassino delle fanciulle, si arrivò a una collaborazione pianificata e vantaggiosa tra i baliati di Gras, Drughignon e Tolone e tra magistrati, polizia, intendente, parlamento e marina. Il motivo di questa azione solidale da parte dei potenti fu da un lato il timore di una rivolta popolare generale, dall'altro il fatto che soltanto dopo l'assassino di loro richesse si scoprirono indizi che resero possibile un perseguimento sistematico dell'assassino. L'assassino era stato visto, evidentemente si trattava di un quell'infausto garzone conciatore che aveva trascorso la notte del delitto nella stalla della locanda di Lannapul e la mattina seguente era scomparso senza lasciar traccia. Secondo le indicazioni concordi del locandiere, dello stalliere e di Richis, era un uomo insignificante, di bassa statura, con una giacca sul marrone e una sacca da viaggio di tela grezza. Sebbene per il resto la dichiarazione dei tre testimoni restasse stranamente vaga, ad esempio non avrebbero saputo descrivere il viso, il colore dei capelli o il modo di parlare dell'uomo, il locandiere seppe ancora dire che, se non sbagliava, aveva notato nell'atteggiamento e nel modo di camminare dello sconosciuto qualcosa di maldestro, come se zoppicasse a causa di una lesione alla gamba o di un piede deforme. Muniti di questi indizi, già nella tarda mattinata del giorno del delitto, due reparti di cavalleria della Marechiosè si misero all'inseguimento dell'assassino in direzione di Marsiglia, uno lungo la costa, l'altro per la via dell'interno. Il rastrellamento dei dintorni immediati di Lannapul fu affidato a volontari. Due commissali del tribunale di Grasse partirono per Nizza per eseguire indagini in loco sul garzone conciatore. Nei porti di Frejus, Cannes e Antibes furono controllate tutte le navi in partenza, ai confini con la Savoia furono bloccate tutte le strade, i viaggiatori furono costretti a provare la propria identità. Un mandato di cattura con descrizione del ricercato apparve per quelli che sapevano leggere su tutte le porte delle città di Grasse, Vence, Gourdon e sui portali delle chiese dei villaggi. Tre volte al giorno ne veniva data pubblica lettura. Naturalmente la storia del presunto piede varo rafforzò l'opinione che il colpevole fosse il demonio in persona e quindi fomentò il panico tra la popolazione anziché procurare indicazioni utili. Soltanto quando il presidente della corte di Grasse per incarico di Richis offrì una ricompensa di non meno di 200 lire per la cattura del colpevole ci furono delazioni che portarono all'arresto di alcuni garzoni conciatori a Grasse, Opio e Gourdon, uno dei quali in effetti aveva la sfortuna di zoppicare. Quest'ultimo nonostante il suo alibi confermato da più testimoni era già destinato alla tortura quando il decimo giorno dopo il delitto una delle guardie cittadine si presentò alla magistratura e rilasciò ai giudici la seguente deposizione. Alle 12 di mattina del giorno in questione lui Gabriele Tagliasco capitano della guardia in servizio come di consueto alle porte du coeur era stato interpellato da un individuo al quale come ora sapeva si adattava notevolmente la descrizione del mandato di cattura e dal medesimo era stato richiesto più volte e con insistenza sulla via presa del secondo console e dal suo sguardo la mattina quando avevano lasciato la città. Né allora né in seguito aveva attribuito importanza alcuna all'avvenimento e anche di quell'individuo per quanto lo riguardava certo non si sarebbe più ricordato. Era così totalmente insignificante? Se il giorno innanzi non l'avesse rivisto per caso è proprio lì a Grasse, in rue de la Louvre, davanti al laboratorio di maître Druth e di madame Arnulfi e in quella circostanza l'aveva colpito il fatto che l'uomo il quale stava ritornando in bottega soppicava visibilmente. Un'ora dopo Grenoy fu arrestato. Il locandiere e lo stagliere di l'Anna Pool che si trovavano a Grasse per l'identificazione degli altri sospetti lo riconobbero subito come il garzone conciatore che aveva pernottato presso di loro. Era lui e nessun altro, lui doveva essere l'assassino che si cercava. Perquisirono il laboratorio, perquisirono la capanna nell'uliveto dietro al convento dei francescani. In un angolo, neppure ben nascosti, trovarono la veste tagliuzzata, la maglietta e i capelli rossi di l'or Richis. E quando scavarono nel terreno, a poco a poco vennero la luce, i vestiti e i capelli delle altre 24 fanciulle. Trovarono la clava di legno, con cui erano state uccise le vittime e la sacca da viaggio di tela. Le prove erano schiaccianti. Il presidente della corte, rese noto con un bando e con manifesti, che il famigerato assassino delle fanciulle, ricercato da quasi un anno, era stato finalmente catturato ed era ben custodito. Dapprima la gente non credette all'annuncio. Pensarono tutti che fosse una finta, con cui le autorità volevano nascondere la loro incapacità e placare lo stato d'animo pericolosamente citato della popolazione. Era ancora troppo recente il ricordo del periodo in cui si diceva che l'assassino si fosse spostato a Grenoble. Questa volta la paura si era radicata troppo a fondo nell'animo della gente. Soltanto il giorno seguente, quando sul sagrato davanti alla Prevoté furono esposti al pubblico gli argomenti di prova, era un'immagine orrenda a vedere allineati sul fronte della piazza i 25 abiti con le 25 ciocche di capelli messi su pali come spaventapasseri. L'opinione pubblica mutò. Molte centinaia di persone sfilarono davanti alla macabra esposizione. Parenti delle vittime, che riconobbero i vestiti, si misero a urlare e subirono un tracollo. Il resto della folla, in parte per avidità di sensazioni, in parte per convincersi del tutto, pretese di vedere l'assassino. Presto le grida. Si fecero così violente, l'agitazione sulla piccola piazza ondeggiante di gente divenne così minacciosa che il presidente decise di far uscire Grenoie dalla sua cella e di esibirlo a una finestra della Prevoté. Quando Grenoie si accostò alla finestra, le grida cessarono. D'un tratto ci fu un silenzio pari a quello di un torrido mezzogiorno estivo, quando tutti sono fuori, sui campi o si rintanano all'ombra delle case. Non si udiva più un passo, non uno schiarirsi di voce, non un respiro. Per qualche minuto la folla fu soltanto una massa d'occhi e di bocche aperte. Nessuno riusciva a immaginare che quel piccolo uomo insicuro e ingobbito lassù alla finestra, quel poveraccio, quel miserabile mucchietto d'ossa, quel non nulla, potesse avere commesso più di 24 delitti. Semplicemente non assomigliava un assassino. In verità nessuno avrebbe potuto affermare come in realtà si era immaginato l'assassino, quel demonio, ma tutti erano d'accordo su una cosa, non in quel modo. E tuttavia, benché l'assassino così com'era non corrispondesse affatto alle idee della gente e quindi sia lecito pensare che la sua esibizione non fosse troppo convincente, paradossalmente soltanto per il fatto di aver visto quella persona in carne e ossa alla finestra e perché soltanto lui e non un altro era stato presentato come l'assassino, l'effetto fu convincente. Tutti pensavano, non può essere vero e nello stesso momento sapevano che doveva essere vero. Certo, soltanto quando le guardie riportarono quel piccolo uomo nella parte in ombra della stanza, dunque soltanto quando non fu più presente e visibile, bensì esistette unicamente ancora, sia pur per brevissimo tempo come ricordo, si potrebbe quasi dire come concetto nelle menti degli uomini, soltanto allora lo stupore abbandonò la folla per dal luogo a una reazione adeguata. Le bocche aperte per lo sballordimento si chiusero, i mille occhi si rianimarono e in quel momento risuonò un unico grido di ira e di vendetta, lo vogliamo! E tutti si accinsero a invadere la privotè per strangolarlo, dilaniarlo e squartarlo con le loro mani. Le guardie fecero molta fatica a barricare il portone e a respingere la plebaglia. Grenoil fu condotto a più presto nella sua segreta. Il presidente si affacciò alla finestra e promise un procedimento esemplare, rapido e severo. Ciò nonostante ci vollero ancora giorni prima che in città ritornasse una certa calma. In effetti il processo contro Grenoil si svolse in modo estremamente rapido, perché non soltanto le prove erano schiaccianti, ma l'accusato stesso durante gli interrogatori confessò senza ambagi i delitti imputatili. Solo alla domanda sulle ragioni per cui l'aveva fatto non seppe dare una risposta soddisfacente. Si limitò a ripetere di continuo che le fanciulle gli erano servite e per questo le aveva uccise. A che scopo gli erano servite, che cosa significasse gli erano servite, su questo non disse una parola. Di conseguenza lo misero alla tortura, lo tennero riappeso per i piedi, gli pomparono in corpo sette pinte d'acqua, gli applicarono le morse ai piedi senza il minimo risultato. Quell'essere sembrava insensibile al dolore fisico, non le mise un grido e quando gli chiesero ancora perché l'avesse fatto non disse altro se non mi servivano. I giudici lo ritennero malato di mente, smisero di torturarlo e decisero di por fine al processo senza ulteriori interrogatori. L'unico rinvio che si verificò ancora fu dovuto a una diatriba giuridica con la magistratura di Draguignan, nel cui baliato si trovava la Napul e con il Parlamento di E, poiché entrambi volevano condurre il processo. Ma i giudici di Grasse non se lo lasciarono strappare di mano, erano stati loro a catturare il colpevole. La maggior parte dei delitti era stata commessa nella zona di loro competenza e se avessero affidato l'assassire a un altro tribunale, l'ira popolare accumulata si sarebbe riversata su di loro. Il sangue doveva scorrere a Grasse. Il 15 aprile 1766 fu pronunciato il verdetto e ne fu data lettura all'accusato nella sua cella. Il garzone profumiere Jean-Baptiste Grenoy, così suonava il giudizio, sarà condotto al coeur davanti alle porte della città, dove con il viso rivolto al cielo, sarà legato a una croce di legno. Riceverà da vivo dodici colpi con una spranga di ferro, che gli spaccherà le articolazioni delle braccia, delle gambe, delle anche e delle spalle. Quindi sarà essato sulla croce finché morte non sopravvenga. La prassi di grazia consueta, cioè lo strangolamento del delinquente con un laccio dopo la rottura delle articolazioni, fu espressamente vietata al carnefice, anche nel caso in cui la lotta con la morte si fosse trascinata per giorni. Il cadavere doveva essere seppellito di notte, allo scorticatoio il luogo doveva restare anonimo. Grenoy accettò la sentenza con impassibilità. L'usciere giudiziario gli chiese se avesse un ultimo desiderio. Nulla, disse Grenoy, aveva tutto ciò che gli serviva. Il sacerdote si recò nella cella per raccogliere la sua confessione, ma ne riuscì dopo un quarto d'ora con un nulla di fatto. Alla menzione del nome di Dio, il condannato l'aveva guardato con un'incomprensione così totale che pareva avesse udito quel nome per la prima volta. Quindi si era steso sul suo tavolaccio ed era subito piombato in un sonno molto profondo. Qualsiasi ulteriore discorso era stato privo di effetto. Dei due giorni seguenti vennero molte persone per vedere da vicino il famoso assassino. I guardiani permisero loro di dare un'occhiata attraverso lo spioncino a ribalta della porta della cella e chiesero sei soldi per ogni occhiata. Un incisore di stampe che voleva eseguire uno schizzo dovette pagare due franchi. Ma il soggetto fu piuttosto deludente. Il prigioniero, incatenato ai polsi e alle caviglie, era sempre disteso sul tavolaccio e dormiva. Teneva il viso rivolto verso la parete e non reagiva né quando bussavano né quando lo chiamavano. Ai visitatori era severamente vietato l'accesso alla cella e nonostante le offerte allettanti i guardiani non osavano infrangere questo divieto. Si temeva che il prigioniero potesse essere assassinato anzitempo da qualche parente delle sue vittime. Per lo stesso motivo era vietato introdurre nella sua cella qualsiasi cibo. Avrebbe potuto essere avvelenato. Durante tutta la sua prigionia Grenoie ricevette il cibo della cucina della servitù del palazzo Vescovile e il sovrattendente del carcere dovette assaggiarlo prima. Naturalmente gli ultimi due giorni Grenoie non mangiò nulla. Stava disteso sul tavolaccio e dormiva. Di tanto in tanto le sue catene tintinnavano e quando il guardiano accorreva lo spioncino della porta lo vedeva prendere un sorso d'acqua dalla bottiglia, ributtarsi sul giaciglio e continuare a dormire. Sembrava che quell'uomo fosse così stanco della sua vita da non voler condividere con essa neppure le ultime ore in stato di veglia. Nel frattempo il coeur fu preparato per l'esecuzione. I falegnami costruirono un patibolo di tre metri per tre, alto due metri, munito di parapetto e di una solida scala. Grasse non ne aveva mai avuto uno così lussuoso. Costruirono inoltre una tribuna di legno per i notabili e un recinto per contenere la gente comune che doveva restare a una certa distanza. I posti alle finestre nelle case a destra e a sinistra della porte du coeur e nell'edificio del corpo di guardia erano stati affittati da tempo a prezzi esorbitanti. Perfino alla charité che si trovava un po' più di lato l'aiutante del carnefice aveva ottenuto contrattando le camere dei malati e le aveva riaffittate ai curiosi traendone un l'auto guadagno. I venditori di limonata miscelavano a ricchi succo di liquirizia di scorta. L'incisore stampò in molte centinaia di esemplari lo schizzo dell'assassino che aveva fatto in prigione e che la sua fantasia aveva raffigurato un po' più scattante di quanto non fosse. I venditori ambulanti affluirono in città a dozzine. I panettieri fecero cuocere al forno pasticcini commemorativi. Il carnefice monsieur Papon che da anni non aveva più avuto delinquenti cui spezzare le ossa si fece forgiare dal fabbro una pesante spranga di ferra sezione quadrata e con questa si recò al macello per esercitarsi sulle carcasse di animali. Gli erano concessi soltanto 12 colpi con i quali doveva spaccare le 12 articolazioni senza danneggiare le parti più importanti del corpo come ad esempio il petto o il capo, un compito difficile che richiedeva la massima sensibilità sulla punta delle dita. I cittadini si prepararono all'avvenimento come un giorno di festa. Era ovvio che nessuno avrebbe lavorato. Le donne stirarono il loro abito festivo, gli uomini spolverarono le giacche e si fecero lucidare gli stivali fino a renderli splendenti. Chi possedeva un grado militare o una carica, chi era capo di una corporazione, avvocato, notaio, direttore di una confraternita o comunque una persona importante, preparò l'uniforme e il costume ufficiale con decorazioni, sciarpe, catene e la parrucca incipriata col bianchetto. I credenti decisero di riunirsi post festum per la messa. I seguaci di Satana per una piccante messa luciferina di ringraziamento, la noblesse colta per una seduta spiritico-magnetica nei palazzi dei Cabris, dei Villeneuve e dei Font-Michel. Nelle cucine già si cucinava e si arrostiva, dalle cantine si portava sul vino, al mercato si acquistavano fiori da decorazione, nella cattedrale l'organista e il coro della chiesa facevano le prove. A casa Richis, in Rudroat, c'era quiete. Richis non tollerava nessun preparativo per il giorno della liberazione, come il popolo chiamava il giorno dell'esecuzione dell'assassino. Tutto lo nauseava. La paura degli uomini risorta ad un tratto l'aveva nauseato. La loro attesa gioiosa e febbrile non nauseava. Loro stessi, gli uomini, tutti quanti, lo nauseavano. Non aveva presenziato all'esposizione del colpevole e delle sue vittime sulla piazza davanti alla cattedrale, né al processo, né alla ripugnante sfilata degli avidi di sensazioni davanti alla cella del condannato. Per identificare gli abiti e i cappelli di sua figlia aveva convocato la corte a casa sua. Aveva fatto la propria deposizione brevemente e con calma e aveva pregato la corte di affidargli gli oggetti della figlia come reliquie, cosa che aveva ottenuto. Li portò nella stanza di Lor, depose sul suo letto la camicia da notte tagliuzzata e la maglietta, sparse sul cuscino i capelli rossi e si sedette di fronte al letto, senza più lasciare la stanza né di giorno né di notte, come se con quella guardia insensata avesse voluto recuperare ciò che aveva perso nella notte trascorsa la Napul. Era così colmo di nausea, nausea per il mondo e per se stesso, che non riusciva a piangere. Anche per l'assassino provava nausea. Non voleva più vederlo come uomo, bensì soltanto come vittima, quando l'avessero massacrato. Soltanto durante l'esecuzione voleva vederlo quando fosse stato sulla croce e i dodici colpi l'avessero schiantato. Allora voleva vederlo, allora voleva vederlo molto da vicino. Si era fatto riservare un posto in prima fila e quando la gente si fosse dispersa dopo un paio d'ore sarebbe salito sul patibolo, si sarebbe seduto accanto a lui e avrebbe montato la guardia per notti, per giorni, se fosse stato necessario e intanto l'avrebbe guardato negli occhi. L'assassino di sua figlia e gli avrebbe versato negli occhi, a goccia a goccia, tutta la nausea che provava. Avrebbe rovesciato tutta la sua nausea nell'agonia di quel mostro, come un acido ardente, a lungo finché fosse crepato. E poi? Che cosa avrebbe fatto poi? Non lo sapeva. Forse avrebbe ripreso la sua solita vita. Forse si sarebbe sposato, forse avrebbe generato un figlio, forse non avrebbe fatto nulla, forse sarebbe morto. Gli era del tutto indifferente. Pensarci gli sembrava assurdo come pensare a quello che avrebbe fatto dopo la propria morte. Naturalmente nulla. Nulla che già fin d'ora potesse sapere.